In quei giorni non feci altro che sprecare il mio tempo. Passavo ore e ore davanti al telefono, incurante degli avvertimenti del destino. Il lunedì, verso mezzogiorno, andai alla facoltà di lettere sperando di trovare Bea. Sapevo che non gradiva che ci vedessero insieme, ma preferivo affrontare le sue ire piuttosto che macerarmi nell'incertezza. Chiesi in segreteria dove fosse l'aula del professor Velasquez e attesi. Venti minuti più tardi le porte si spalancarono e vidi passare il docente, azzimato e tronfio come al solito, seguito da un codazzo di ammiratrici, attesi altri cinque minuti. Bea non c'era. Decisi di entrare in aula. Tre fanciulle, con la faccia da scuola di catechismo, chiacchieravano passandosi appunti. Quella che sembrava la leader del gruppo mi scoccò un'occhiata inquisitoria. Scusate, cercavo Beatriz Aguilar, sapete se frequenta questo corso? Le tre ragazze si scambiarono uno sguardo e mi sottoposero a un'accurata radiografia. Sei il suo fidanzato? Chiesi una di loro. Il sottotenente? Il mio sorriso vago fu interpretato come una conferma. Solo una delle tre lo ricambiò timidamente. Le altre due mi affrontarono baldanzose. Ti immaginavo diverso, disse la generalessa. E l'uniforme? Domandò il secondo ufficiale squadrandomi. Sono in licenza, sapete se è già andata via. Beatriz oggi non è venuta a lezione, affermò la capa con l'aria di sfida. Ah no? No, confermò l'altra. Se sei il suo fidanzato dovresti saperlo. Sono il suo fidanzato, non un poliziotto. Su andiamo, ce n'è solo un boffone, disse la capa. Mi passarono accanto con aria di sufficienza e un sorrisino. La terza, che era rimasta indietro di qualche passo, prima di uscire dall'aula e dopo essersi assicurata che le altre due non la vedessero, mi sussurrò. Beatriz non è venuta neanche venerdì. E sai perché? Tu non sei il suo fidanzato, vero? No, solo un amico. Credo sia malata. Malata? Così ha detto la compagna che le ha telefonato a casa. Adesso devo andare. E raggiunse le amiche, che la aspettavano impazienti nel chiostro, senza darmi neppure il tempo di ringraziarla. Sarà successo qualcosa, Daniel? La dipartita di una prozia? Un pappagallo con gli orecchioni? Un brutto raffreddore? A forza di andare col culo all'aria? Per quanto possa sembrarle strano, l'universo non ruota tutto intorno agli istinti del suo basso ventre. Altri fattori condizionano il corso dell'umanità. Crede che non lo sappia? Forse non mi conosce, Fermin. Se il buon Dio mi avesse dotato di un bacino adeguato, avrei potuto partorirla io, tanto bene la conosco. Mi dia retta. Cerchi di non pensarci ed esca a prendere un po' d'aria. L'ansia è la ruggine dell'anima. Le sembro ridicolo? No. Ossessionato. Alla sua età si tende a enfatizzare certi contrattempi, ma tutto ha un limite. Stasera io e lei andiamo a sollazzarci in un locale di gran moda di calplateria. Mi hanno detto che sono appena arrivate da Ciudad Real delle Nordiche da Cardiopalmo. Offro io. E Bernarda cosa dirà? Alle ragazze le lascio a lei. Io la aspetterò sfogliando qualche rivista e godendomi a distanza le loro grazie. Ormai mi sono convertito alla monogamia e se non inventi, perlomeno de facto. La ringrazio molto, Fermin, ma un diciottenne che rifiuta a un'offerta del genere non è nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali. È necessario un intervento urgente. Tenga. Si frugò nelle tasche e mi tese delle monetine. Mi chiese se si trattava del denaro con cui intendeva finanziare la spedizione a quel lussuoso covo di piaceri. Con questi spiccioli non ci augurano neanche la buonasera. Lei è proprio un pollo, Daniel. Credeva davvero che l'avrei portata in un lupanare così poi tornava da suo padre, l'uomo più santo che abbia mai conosciuto impestato di gonorrea. La storia delle ragazze me la sono inventata per fare appello all'unica parte del suo corpo che sembra ancora funzionare per vedere se reagiva. Le monete sono per il telefono pubblico. Così potrà parlare con la sua innamorata con un po' di intimità. Beh, mi ha detto che avrebbe chiamato lei. Le ha detto anche che l'avrebbe chiamata venerdì. Oggi è lunedì. Veda lei. Amare le donne non significa credere a tutto quello che dicono. Un attimo dopo ero già alla più vicina cabina telefonica. Composi il numero degli Aguilar e al quinto squillo qualcuno sollevò il ricevitore senza dire niente. Trascorsero cinque minuti eterni. Bea, mi sbigliai. Sei tu? La risposta mi fece l'effetto di una martellata nello stomaco. Figlio di puttana, ti farò sputare l'anima bastonate. In quella voce c'era una rabbia fredda, calcolata. Immaginavo il signor Aguilar che reggeva la cornetta del telefono. Lo stesso che avevo usato tante volte per avvertire mio padre che avrei fatto tardi, dopo aver trascorso il pomeriggio con Tomà. Rimasi ad ascoltare il respiro affrettato del padre di Bea e mi chiesi se avesse riconosciuto la mia voce. Non dici niente, disgraziato. Se fossi un uomo, dopo quello che hai fatto, avresti almeno il coraggio di mostrare la faccia. Lei ha più coglioni di te. Si è rifiutata di rivelare il tuo nome, non lo dirà mai. La conosco e siccome non hai il coraggio delle tue azioni, sarà lei a pagare per le tue colpe. Quando riagganciai mi tremavano le mani. Ero sconvolto. Non avevo previsto che la mia telefonata avrebbe potuto aggravare la situazione di Bea. Avevo pensato solo a me stesso e così avevo tradito chi dicevo di amare. Era già successo quando l'ispettore Fumero aveva pestato a sangue Fermin. Era accaduto di nuovo adesso e avevo abbandonato Bea al suo destino. E lo avrei fatto ancora, appena si fosse presentata l'occasione. Camminai per una decina di minuti nel tentativo di calmarmi. Mi chiesi se non sarebbe stato più saggio richiamare e confessare tutto al signor Aguilar, dirgli caro e tondo che ero pazzo di sua figlia, se poi voleva rompermi la faccia, magari indossando la sua uniforme dell'esercito, che facesse pure, era un suo diritto, no? Stavo rientrando in negozio quando notai un uomo che mi osservava dal marciapiede di fronte. Sulle prime pensai fosse Don Federico, l'orologiaio, ma era un tipo molto più alto e robusto. Lo fissai e, con mia grande sorpresa, lui piegò leggermente la testa, come se volesse salutarmi, e non gli importasse di essere stato scoperto. Fece un passo avanti e, mentre si abbottonava l'impermeabile, mi sorrise. Poi si diresse verso le Ramblas e si confuse tra la folla. Allora lo riconobbi. Era l'agente di polizia che mi aveva immobilizzato mentre l'ispettore Fumero si accaniva sul povero Fermin. Quando tornai in libreria, il mio amico mi fissò con aria interrogativa. Cos'è quella faccia? Fermin, abbiamo un problema. Quella sera decidemmo di inaugurare il piano concordato con Don Gustavo Barceló. Innanzitutto verifichiamo se ci tengono effettivamente sotto sorveglianza. Adesso, come se niente fosse, facciamo un salto a El Scatrga e vediamo se quel tale è ancora appostato lì fuori. E non una parola con suo padre, se no come minimo gli vengono i calcoli al fegato. Che scusa mi invento stavolta. Ormai ha mangiato la foglia. Gli dica che va a comprare dei semi di zucca o un preparato per il budino. E perché proprio a El Scatrga? Perché da qualche parte dobbiamo pur parlare e lì preparano i migliori panini con la salsiccia nel raggio di 5 chilometri? Non stia a cavillare, faccia quel che le dico, Daniel. Ero disposto a tutto pur di scacciare i pensieri che mi assillavano. Dopo aver promesso a mio padre che sarei tornato per l'ora di cena, uscii dalla libreria. Quando raggiunsi Fermin all'angolo di Puerta dell'Hangel, lui mi fece segno di proseguire. Il segugio è a 20 metri da noi. Non si giri. È quello di prima. Non credo, a meno che l'umidità non l'abbia già ristretto. Quello è un sempliciotto. Va in giro con un giornale sportivo di sei giorni fa. Fumero sta reclutando apprendisti al cotto lengo. A El Scatrga la gente in incognito si sedette a un tavolino non distante dal nostro, fingendo di leggere le cronache delle partite di una settimana prima. Ogni venti secondi ci dava un'occhiata. Poverino, guardi come suda, disse Fermin scuotendo la testa. La vedo frastornato, Daniel. È riuscito a parlare con la ragazza? No, ha risposto suo padre. Una conversazione amichevole e cordiale? Più che altro un monologo. Capisco, devo arguire che non la tratta ancora come un futuro genero. Mi ha detto testualmente che mi farà sputare l'anima abbastonate. Ah, sarà stata una figura retorica. Arrivò un cameriere a prendere le ordinazioni. Fermin, fregandosi le mani, ordinò da mangiare per un reggimento. E lei non prende niente, Daniel? Scossi la testa. Il cameriere tornò con due vassoi di stuzzichini, panini e birre. Fermin pagò con una banconota e gli disse di tenere il resto. Capo, lo vede quel tipo seduto accanto alla finestra, quello vestito da grillo parlante con la testa sprofondata nel giornale come in un cartoccio di caldarroste? Il cameriere annui con aria complice. Sarebbe così cortese da riferirgli che l'ispettore fumero gli manda un messaggio urgente. Deve recarsi ipso facto al mercato della bocheria a comprare cento pesetas di ceci lessi e portarli al più presto in commissariato, anche in taxi se necessario, se non vuole farsi affettare lo scroto. Devo ripeterglielo. Non è necessario, signore, cento pesetas di ceci lessi o lo scroto. Fermin gli allungò un'altra moneta. Dio la benedica. Il cameriere fece un piccolo inchino e andò a riferire il messaggio allo sbirro. Il poliziotto strabuzzò gli occhi e dopo aver tentennato per quindici secondi si precipitò in strada. Fermin non fece una piega. In un altro momento avrei trovato la scena esilarante, ma quella sera non riuscivo a togliermi dalla testa il pensiero di Bea. Daniel ritorni sulla terra, dobbiamo discutere di lavoro. Domani stesso andrà a trovare Nuria Monfort come avevamo stabilito. E cosa le dico? Gli argomenti non le mancheranno. Basterà attuare il piano del signor Barceló. Le dica di aver scoperto che le ha mentito Succarà, che il suo presunto marito Miguel Moliner non è in carcere, che lei ha ritirare la corrispondenza indirizzata al vecchio appartamento dei Fort Unicarà utilizzando una casella postale intestata a uno studio di avvocati inesistente. Insomma, la pungoli un po'. Ricorra ai toni drammatici e ai prospetti scenari catastrofici. Poi, con un colpo di scena, se ne vada e la lasci cuocere nel suo brodo dell'incertezza. Nel frattempo... Nel frattempo io mi apposterò per poi seguirla. Le dico subito che sarò camuffato. Non funzionerà, Fermin. Abbia fede! Ma cosa le ha detto quell'energumeno per ridurla così? È per via delle minacce? Non si faccia impressionare. Vuole sapere la verità. La verità secondo San Daniel Martire? Rida pure. Me lo merito. Non rido di lei, Daniel. Ma mi dispiace vederla così afflitto, neanche indossare un ciuccio. Non ha fatto niente di male. Il mondo è pieno di aguzzini e non mi sembra il caso di flagellarsi con l'impegno di un Torquemada masochista. Parla per esperienza. Fermin scrollò le spalle. Non mi ha mai detto com'è incappato in fumero, insistetti. Vuole sentire una storia edificante? Solo se le va di raccontarmela. Fermin si versò un bicchiere di vino e lo beve in un sorso. Amen, disse. Quello che posso raccontare di fumero è Vox Populi. La prima volta che ho sentito parlare di lui, il futuro ispettore era un pistolero al soldo degli anarchici. Godeva di un'ottima reputazione perché agiva senza remore. Gli bastava un nome per liquidare il tizio con una pallottola in faccia, in pieno giorno e in una pubblica via. Era uno di quegli uomini molto apprezzati in epoche turbolente. Inoltre non sapeva cosa fossero la lealtà e gli ideali. Non gli importava un accidente della causa che serviva, fin tanto che questa serviva a lui. Il mondo pullula di gentaglia come lui, ma pochi possiedono il suo talento. Dopo si mise al servizio dei comunisti e da lì ai fascisti il passo fu breve. Faceva il doppio gioco e prendeva denaro da tutti. Io lo tenevo d'occhio da tempo. All'epoca lavoravo per il governo della Generalitat. A volte mi prendevano per il fratello brutto di Companys, cosa di cui andavo fiero. E che lavoro faceva?